Proseguono le indagini sull'omicidio dell'ambasciatore russo ad Ankara. Andrei Karlo fu ucciso a colpi di pistola durante l'inaugurazione di una mostra d'arte nella giornata di lunedì. Mosca ha inviato nella capitale turca una delegazione formata tra 18 uomini dei servizi segreti e gli investigatori hanno cominciato a scavare anche nel passato del killer Mevlut Mertaltintas, un poliziotto di 22 anni, risultato essere stato per otto volte una delle guardie del corpo del presidente turco Erdogan. Dalla polizia intanto sarebbero state fermate almeno 13 persone. Sul fronte della diplomazia Ankara insiste sul coinvolgimento della presunta rete golpista di Fethullah Gulen. Frena invece Mosca mentre all'agenzia di stampa iraniana Isna è arrivata la rivendicazione del gruppo fondamentalista sunnita Jaish al-Fatari, conducibile all'ex fronte al-Nusra. Intanto la salma dell'ambasciatore è tornata in Russia dove si è tenuto un minuto di silenzio all'apertura dei lavori della Duma e durante la quale Vladimir Putin ha annunciato che prenderà parte ai funerali ed ha conferito alla memoria il titolo di eroe di Russia a Karlov.